Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del Tg6 in apertura. Ci occupiamo di una tematica molto attuale in questi giorni, quella dei rifiuti. Continuano le polemiche sulla possibilità che la regione in tre impianti, due privati ad Aielli e Chieti e uno pubblico a Sturmona, accolga i rifiuti in arrivo da Roma e dal Lazio. La regione sembra voler autorizzare il trasporto per tre mesi. Il sindaco di Chieti di Primio si dice pronto invece a vietare l'accesso in città ai camion se non ci sarà chiarezza. Critiche anche dagli ambientalisti. Il servizio di Alfredo Primante. Tre mesi. Questo dovrebbe essere il lasso di tempo di accoglimento dei rifiuti aggiuntivi che arrivano dalla capitale rispetto a quelli che già vengono accolti nella nostra regione a partire dal 2014. La tempistica sarà ratificata però al termine della seduta di giunta regionale in programma per domani. Anche se il presidente D'Alfonso al microfono di radio in blu questa mattina ha confermato la volontà del governo regionale di aiutare la capitale. La regione Abruzzo infatti ha una capacità di accoglimento superiore rispetto alle sue necessità, stimata in 250.000 tonnellate. Ed inoltre esiste, come detto, già un accordo con la regione Lazio per il trasporto e il trattamento dei rifiuti. Allo stato attuale, ha proseguito D'Alfonso nell'intervista, risulta una richiesta dell'AMA, la municipalizzata romana che si occupa della nettezza urbana, a cui la regione Abruzzo ha risposto chiedendo delucidazioni su quattro punti, quantità, tempistica, ritmo dei trasporti quotidiani e spinta alla riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in riva Altevere. Domande a cui ad oggi non si è avuta risposta, concluso D'Alfonso, che si è comunque detto pronto a dare una mano alla capitale, quale risorsa turistico-culturale dell'Italia. Tre sarebbero le destinazioni individuate per i rifiuti romani, Aielli, Sulmona e Chieti. Proprio il primo cittadino teatino, Umberto Di Primio, in una nota dice di essere pronto a vietare il passaggio dei camion se non ci sarà chiarezza su impatto ambientale, quantità, tipologia e durata del conferimento dei rifiuti. Se avessi dovuto autorizzare l'arrivo dei rifiuti nella discarica di proprietà del comune di Chieti, precisa il sindaco, avrei già sbarrato l'ingresso della stessa. Critico anche il forum abruzzese dell'acqua, che con Augusto De Santis parla di una scelta quasi obbligata della regione Abruzzo. Il nuovo piano regionale dei rifiuti, prevedendo una impiantistica sovradimensionata di molto, quasi il doppio rispetto al fabbisogno abruzzese, Preghen andrà a consolidare il fatto che l'Abruzzo si candida a ospitare rifiuti da altre regioni. Peraltro c'è un passaggio del piano in cui c'è scritto proprio l'Abruzzo si candida a importare rifiuti. Ora questo aspetto è assolutamente inaccettabile perché ovviamente poi i costi ambientali di questi impianti sovradimensionati ricadono su noi abruzzesi. Per quello noi abbiamo criticato il nuovo piano regionale dei rifiuti perché fino al 2022 con questo sovradimensionamento impiantistico rischiamo di dover importare, anche perché altrimenti questi impianti o lavorano male perché lavorano sotto capacità, oppure vanno chiusi e quindi vanno contro il piano, oppure c'è la terza opzione che è quella di importare rifiuti. Assemblea unitaria di CGL, Cisle, Will, Abruzzo e Molise su salute e sicurezza sul lavoro questa mattina a Pescara. Tante le tematiche affrontate nel corso dei lavori, il servizio di Paolo Renzetti. Questi dati confermano per gli infortuni sul lavoro un trend decrescente, c'è ancora una diminuzione dell'1,5% di questi infortuni rispetto al 2015, ci attestiamo intorno ai 14.500 infortuni l'anno. C'è una diminuzione, se così possiamo chiamarla, anche degli infortuni mortali. Nel 2016 si sono verificati 29 infortuni mortali, erano 38 nel 2015. Di questi 22 sono occorsi in occasione di lavoro, 7 sono invece successi sulla strada, infortuni in itinere. Risalgono anche i morti in agricoltura, 7 nel 2016, erano 4 nel 2015. Ci attestiamo come regione rispetto agli occupati, notiamo che c'è un indice di frequenza molto alto. La posizione del sindacato su questi temi è una posizione unitaria e quindi questo percorso che stiamo facendo in tutte le regioni d'Italia, che oggi è qui in Abruzzo, è in realtà un percorso unitario sui temi della salute e sicurezza. Lo scopo qual è? È quello in realtà di ritornare a interpretare i dati, a leggere i dati drammatici degli infortuni e delle malattie professionali, però partendo dai territori, partendo dal capire quali sono le priorità di prevenzione in ogni realtà, perché un dato, un numero è in realtà assolutamente un numero freddo se non viene poi caratterizzato, se non viene commentato e quindi se non si individuano le misure di prevenzione. Noi riteniamo che la legislazione sia sufficiente, ma c'è un punto che è l'esigibilità di queste norme e c'è quanto questo Paese investe in termini di risorse, anche sotto il profilo di investimenti in risorse umane che sono le persone che lavorano nei luoghi di lavoro, ma soprattutto investire in prevenzione, in quel pezzo di sanità e di mondo istituzionale che cura la prevenzione della salute, quindi degli infortuni sul lavoro e cura la salute degli ambienti di lavoro. La recente sentenza della Corte di Cassazione sulla chiusura di tutte le scuole senza idoneità sismica riapre il problema in Abruzzo e soprattutto a Teramo. Secondo la SAI, l'associazione Scuole Sicure, il 90% degli edifici scolastici abruzzesi sono senza indici di vulnerabilità adeguati, mentre a Teramo si aspetta ancora l'arrivo dei MUSP per 600 alunni. Tania Bonnici-Castelli Le scuole che non posseggono i requisiti di idoneità sismica devono chiudere, lo affermano i giudici della Suprema Corte di Cassazione in una recente sentenza che ha riconosciuto ben fatto il sequestro preventivo di una scuola di Grosseto indipendentemente dall'esistenza di un pericolo concreto di terremoto. Una decisione che avrà effetti dirompenti su tutta Italia e in particolare in Abruzzo, dove secondo le stime della SAI, l'associazione Scuole Sicure, il 90% degli edifici scolastici abruzzesi sono al di sotto dell'indice dell'1% previsto dalla legge. A Teramo poi, sempre secondo la SAI, la maggioranza delle scuole raggiungerebbe un indice di appena lo 0,2% pur restando regolarmente aperte. Questa sentenza però non è ancora legge. È solo una pronuncia, non una legge però questa della Cassazione. Esattamente, questa è un'indicazione che viene data ai sindaci che comunque rimangono responsabili della sicurezza delle nostre scuole assieme agli uffici tecnici, in quanto se gli uffici tecnici dovessero riscontrare l'inidoneità della struttura ad ospitare appunto una funzione scolastica dovrebbero immediatamente chiudere questi edifici. E questo è quello che emerge da questa sentenza che comunque conferma quello che anche il Movimento 5 Stelle ha spesso ribadito, ossia quando siamo di fronte a degli indici di sicurezza molto molto bassi la struttura deve essere chiusa e devono essere trovate delle situazioni alternative. In base a questa sentenza quante scuole terramane dovrebbero essere chiuse? Purtroppo dalle ultime indagini che sono state fatte sul territorio terramano se effettivamente facciamo calare questa sentenza nel nostro ambito tantissime scuole dovrebbero essere chiuse perché moltissime non hanno gli indici richiesti dalla sentenza. Come mai? Naturalmente questa situazione è frutto purtroppo di una cattiva gestione dell'amministrazione negli ultimi 13 anni, non solo nell'ultimo anno ma negli ultimi 13 anni laddove non c'è stata programmazione per quanto riguarda il patrimonio dell'edilizia scolastica laddove non c'è stata programmazione per cercare di rimettere in sesto le scuole terramane tanto che ancora aspettiamo i MUSP. E in attesa di una legge chiara che disciplini l'idoneità delle scuole soprattutto nelle zone del cratere a Teramo si resta in attesa dei MUSP per 600 all'unni terramani che l'ex sindaco Brucchi sosteneva di aver ottenuto dal governo e che sarebbero dovuti arrivare a fine anno. Per il momento non se ne vede ancora l'ombra. Restiamo in tema in qualche modo. Il progetto di una nuova scuola antisismica ed ecosostenibile è stato presentato dall'amministrazione comunale di Lanciano una scuola innovativa senza barriere architettoniche in legno ad un piano prototipo per il territorio frentano. La scuola dovrebbe essere pronta entro il 2019. Finalmente dopo quasi due anni sono stati completati i lavori di miglioramento sismico alla scuola primaria Rocco Carabba di Lanciano 850 mila euro l'importo di spesa per eseguire i quali 200 all'uni sono stati trasferiti all'Istituto Superiore del Giorgio tra le mille difficoltà di una struttura che invece continua a dare seri problemi soprattutto per le infiltrazioni d'acqua. Entro un paio di settimane dunque i ragazzi torneranno in una scuola rinnovata e che risponde ai più moderni criteri antisismici manca infatti solo la pulizia dei locali per inaugurazione. L'amministrazione Pupilo ha puntato molto sulla messa in sicurezza del patrimonio scolastico già esistente con una progettualità di 5 milioni di euro di cui 3 milioni e 200 mila euro già finanziati l'assessore all'istruzione e vice sindaco Giacinto Verna. Voglio evidenziare che quando noi ci siamo insediati come amministrazione comunale al di là della Bellisario che era una scuola costruita da poco tempo non c'erano altre scuole che avevano avuto lavori di miglioramento sismico con l'amministrazione Pupilo, oggi abbiamo la scuola dell'infanzia Olmo di Riccio abbiamo la scuola a Marcianese, abbiamo in questo momento, ne siamo tutti testimoni la Rocco Carabba che hanno subito quindi lavori di miglioramento sismico quindi abbiamo 4 scuole più sicure dal punto di vista della sicurezza e del miglioramento sismico. Complice l'assenza di vento e il periodo di festività lo smog a Pescara è su livelli di guardia l'amministrazione comunale sta studiando le misure da adottare nell'area vasta coinvolgendo anche i sindaci dell'area metropolitana la tua è l'arta ma al momento non è emergenza. Sindaco Alessandrini, è davvero emergenza smog a Pescara? Il dibattito pubblico sembra non poter fare a meno di frasi come emergenza, allarme, non è così siamo all'inizio dell'anno, lo scorso anno abbiamo avuto un numero di sforamenti rispetto alle rilevazioni sulla qualità dell'aria inferiore ai limiti di legge siamo stati cioè sotto i 35 sforamenti. Ora noi immaginiamo di qui alle prossime settimane, ai prossimi mesi di mettere in campo una serie di iniziative strategiche e immaginiamo di farlo non solo come comune di Pescara ma come comuni dell'intera area metropolitana vasta cioè proprio ieri io ho parlato telefonicamente con il sindaco Maragno, Montesilvano il sindaco di Lorito, Spoltore e poi il sindaco Marinucci di San Giovanni Tettino e poi il sindaco Antonio Luciani di Francavilla perché lunedì vedremo qui a Pescara per immaginare e disegnare una serie di politiche ambientali comuni questo per me ha un significato doppio perché significa immaginare una programmazione unitaria del territorio le misure su cui noi ragioniamo sono quelle solite ma che devono essere inserite in un ambito di sistema certamente allo studio c'è la possibilità di immaginare domeniche ecologiche c'è la possibilità di immaginare limitazioni al traffico in zone centrali delle città delle auto inquinanti, possiamo immaginare forme di potenziamento del servizio pubblico vogliamo fare tutto questo insieme ai colleghi sindaci perché naturalmente non è che cambiando il confine da Pescara a Montesilvano piuttosto che da Pescara a Spoltore cambia qualcosa e vogliamo farlo però sempre rinunciando all'idea di seguire il partito della paura perché la qualità dell'aria di Pescara e dell'Abruzzo è assolutamente normale Un nuovo assetto per la CNA che presenta i dati delle imprese e i possibili strumenti per risolvere la crisi del settore artigiano Un nuovo assetto istituzionale per la CNA l'Aquila sul Mona che ha presentato il piano di organizzazione e programmazione pluriennale che punta a un sostegno concreto al mondo dell'artigianato delle imprese sono 1546 le imprese associate alla CNA l'Aquila e la sua provincia devono ripartire dalla valorizzazione del tessuto artigianale ed economico ha dichiarato il nuovo presidente della CNA l'Aquila sul Mona Gianfranco Torelli eletto a luglio scorso Torelli ha raccolto il testimonio di Giorgio Stringini presidente onorario dell'associazione Il direttore della CNA Agostino del Re ha illustrato il report dei danni provocati dal sisma dei 108 comuni della provincia dell'Aquila 48 fanno parte del doppio cratere per un totale di 110.000 residenti e 48.500 famiglie sono ben 10.500 le imprese che hanno subito danni diretti o indiretti dal sisma con 37.250 dipendenti coinvolti in cassa integrazione o sospensione momentanea dell'attività lavorativa un'analisi che ben identifica la portata devastante del sisma ma servono misure per riprendersi sviluppare immediatamente quello che può essere la rigenerazione del territorio il territorio che non si intende esclusivamente su quello che è il danno materiale ma si intende anche su quello che può essere uno sviluppo di quelle che sono realtà economiche perché fra l'altro la ricostruzione sta andando avanti anche se poi la ricostruzione pubblica ha grosse difficoltà non si riesce ad insediare in maniera importante edifici di interesse pubblico al centro storico un esempio fra tanti lo vediamo anche su fabbricati lì compreso il fabbricato della Camera di Commercio che è l'unico ancora che non parte su lavori quello che sta praticamente che fa anche la Sofia Sanguisante quindi sapendo che la Camera di Commercio è una realtà che rappresenta l'economia insomma un edificio ancora non si realizza non so quali sono impedimenti però non è che depone positivamente fermo restando che sul discorso delle imprese noi oggi abbiamo un'opportunità che è quella di fare centro fare centro è un importante sistema per cui rincentiva le persone a tornare al centro storico più a creare nuove opportunità e sul discorso delle nuove opportunità e anche sulle realtà tradizionali che rimangono è un discorso per cui oggi potrebbero rappresentare circa 300 nuove imprese che si stabiliscono in tempi brevi Presentato questa mattina a Pescara un progetto di mecenatismo culturale denominato Art Bonus ovviamente come oggetto l'inserimento nel sito governativo del progetto di catalogazione e di restauro di 17 opere del Museo Civico Basilio Cascella Un'opera di mecenatismo che riguarda delle opere che si trovano all'interno del Museo Basilio Cascella ad opera di un privato ovviamente c'è la vallo, la collaborazione dell'amministrazione comunale di cosa si tratta in particolare? Sì, parliamo dell'Art Bonus che è stato introdotto a decreto legislativo 83 del 2014 poi convertito nella legge 106 e prevede una leva fiscale cioè la possibilità di recuperare il 65% delle somme donate quindi per farla breve ogni 100 euro donate se ne possono recuperare 65 e il primo progetto di Art Bonus che interessa il Comune di Pescara si è scelto di farlo al Museo Basilio Cascella e con una duplice direttiva da una parte il restauro di 17 opere tutte su supporto cartaceo sia di Basilio che di Tommaso e la cosa bella è che molte diverse di queste opere erano nei depositi quindi saranno fruibili appena restaurate a tutta la collettività per quanto riguarda l'Art Bonus in Abruzzo la situazione non è proprio rosa perché tranne un intervento a Pianela di 34 mila euro sponsorizzato dalla BCC e un piccolo intervento di 600 euro c'è questa possibilità qui a Pescara di recuperare questa somma e naturalmente di sponsorizzare il restauro di queste opere una notizia simpatica è che prima di far partire il progetto Art Bonus abbiamo avuto già un piccolo contributo ed è bello che non sia arrivato da un'impresa da una grande impresa né da una banca importante del territorio ma è arrivato da uno storico che è Enzo Fimiani che è il già direttore della Biblioteca Provinciale di Pescara la Primo Riccitelli di Teramo ha stipulato un accordo con l'Università Teramana per mettere in scena spettacoli dedicati alle scuole intanto prosegue l'attività culturale della Riccitelli dopo lo scontro per l'uso del teatro comunale continua la stagione di prosa ma continua la stagione dei concerti infatti il mese di gennaio è un mese ricco di appuntamenti fermo restando che speriamo il prima possibile di poter riportare naturalmente la stagione al teatro comunale di Teramo questo come tutti sanno non dipende da noi speriamo che a breve ci siano delle notizie positive in tal senso noi per il momento comunque rimaniamo al Palasport di San Nicolò a Tordino proprio in questi giorni sono stati ultimati i lavori da parte dei gestori del Palasport stesso tutti quei lavori che erano stati richiesti dalla Commissione Provinciale di Vigilanza Pubblico Spettacolo quindi nei prossimi 19, 20 e 21 di gennaio appunto porteremo la locandiera con Laura Morante quello spettacolo che purtroppo non si è potuto più tenere fine novembre lo ripeteremo in questi giorni e poi a fine mese 30, 31 e 1 febbraio ci sarà lo spettacolo con Stefano Accorsi parallelamente ci saranno altri due concerti sempre nel mese di gennaio quello con Luca Pincini e Gilda Buttà che sono i due musicisti di riferimento di Ennio Morricone e poi ci sarà l'altro concerto con Mario Brunello che è uno dei più grandi musicisti, violoncellisti al mondo sappiamo che vi state impegnando con l'università per offrire degli spettacoli dedicati ai ragazzi delle scuole medie ci sarà un importante, importanti concerti un progetto molto importante che si terrà proprio nell'aula magna dell'università degli studi di Teramo la seconda metà del mese di gennaio e ora apriamo la pagina dello sport le prossime ore sono decisive in casa Pescara per le sorti di Antonio Mazzotta il terzino in scadenza lascerà il Pescara testa a testa tra Parma e Brescia per giudicarsi le prestazioni del giocatore con il Parma però che ora è in netto vantaggio intanto stamani è stata ufficializzata la recessione contrattuale col portiere Antonino le cessioni stanno caratterizzando la prima parte del mercato del Pescara e non è una sorpresa visto che lo snellimento della rosa era la richiesta più incisiva fatta da Zeman gli addi di Pigliaceli e Gantz sono cosa fatta come cosa fatta è la rescissione del contratto col portiere Vittorio Antonino ufficializzata stamani le prossime ore saranno decisive per la partenza di Antonio Mazzotta il terzino sinistro va via perché il Pescara non gli rinnova il contratto in scadenza il Brescia aveva superato la concorrenza dell'Ascoli ma negli ultimi giorni l'inserimento del Parma ha rimescolato le carte il club Ducale ora è avanti rispetto a quello di Cellino la partita non è ancora chiusa del tutto il Brescia proverà ancora ma Parma sembra la destinazione più allettante essendo la squadra di D'Aversa anche in lotta per la Serie A sempre il Parma ha poi messo gli occhi su Ahmad Ben Ali il giocatore anglo-libico da giorni fa gola anche al Crotone con un'offerta non inferiore a 2 milioni e mezzo di euro Ben Ali può partire o al massimo con un prestito ma con diritto o obbligo di riscatto il presidente Sebastiani è stato chiaro e un giocatore come Ben Ali se andrà via accadrà solo di fronte ad un'offerta economica importante e congrua per il valore del giocatore attraverso le dinamiche di entrate e uscite del settore sarà possibile capire il destino di Nando del Sole se dovesse esserci abbondanza e gli spazi dovessero chiudersi la Juventus potrebbe riportare a casa il gioiellino napoletano e poi valutare la soluzione idoria nei prossimi mesi un reparto che a breve potrebbe avere un nuovo occupante Carlos Embalo del Palermo la società siciliana prima di darlo via in prestito sta trovando dei sostituti ed una volta chiuso l'acquisto di Moreo dal Venezia lascerà andare il giocatore della Guinea-Bissau intanto è praticamente fatta per il difensore Andrew Gravion che l'Inter ha fatto ritornare dal Benevento per poi girarlo al Pescara il giocatore Franco Guadalupense ora è in vacanza in concomitanza con la sosta della Serie A potrà essere a disposizione di Zeeman la prossima settimana arrivano conferme anche dall'intervista rilasciata dall'agente di Gravion Oscar Damiani al portale FC Inter News le voci che vogliono il Pescara sulle tracce di Gravion sono vere è una trattativa che si può concretizzare c'è un accordo di massima tra le parti che deve essere formalizzato nei prossimi giorni vedremo cosa succederà intanto la visita al Lugano del presidente Sebastiani e l'incontro col patron Angelo Renzetti è stata propedeutica all'ufficializzazione dell'amichevole di mercoledì prossimo ore 15 tra Pescara e Lugano all'Adriatico Cornacchia sarà l'occasione per Zeeman di fare le prove generali in vista della partita di Foggia del prossimo 20 gennaio e ora parliamo di Serie C e di Teramo nell'amichevole persa col Pescara Primavera la squadra bianco-rossa ha giocato con il modulo del 4-3-2-1 l'allenatore Asta sta lavorando con costanza in questi giorni su questo assetto tattico rispolverando i principi di inizio stagione intanto è stata annullata l'amichevole di domani che era stata programmata per domani con il San Nicolò al posto dell'amichevole il Teramo effettuerà una normale seduta di allenamento alle 14.30 sempre al Bonolis ascoltiamo ora l'attaccante Riccardo Barbuti che ha realizzato l'unico gol bianco-rosso nel test di ieri Barbuti intanto un commento su questo test è stato un test importante venivamo da una mole di lavoro importante perché abbiamo fatto un sacco di giorni a livello fisico molto importanti peccato per il risultato eravamo un po' stanchi a livello fisico però stiamo portando avanti questo modulo con questo nuovo schema che ci potrà togliere soddisfazioni Senti, Teramo che ha giocato con due trequartisti più un centravanti si torna un po' all'antico ti piace questa cosa? Sì, a me piace questo modulo personalmente può essere definito un 4-3-3 un 4-3-2-1 sicuramente noi attaccanti così riusciamo ad essere un po' più sopportati anche le due mezze punte comunque riescono a creare un po' più mole di gioco per noi è importante comunque portare avanti sia questo modulo sia quello che abbiamo utilizzato in questa prima parte di stagione e poi il mister deciderà quale utilizzare Senti, ci sono due variabili che possono incidere e anche dare fastidio in questo periodo il mercato e la situazione di alcune squadre tipo il Vicenza che peraltro è anche il prossimo vostro avversario tanto la questione di Vicenza voi come la state vivendo a tanti chilometri di distanza? Noi cerchiamo di non pensarci nel senso che pensiamo noi stessi di preparare la partita sempre nella maniera impeccabile come abbiamo fatto nella prima parte di stagione senza pensare all'avversario poi quel che succederà vedremo cosa succederà e ci prepareremo nel modo migliore comunque con questa sfida Per quanto riguarda il mercato si parla molto di Foggia che sembrerebbe in uscita e il tuo nome non c'è quindi insomma tu sei sicuro resti a terra? Ah, io come ho già detto mi piacerebbe continuare con questa maglia poi le decisioni della società adesso sceglieranno loro nel senso comunque per il momento tutti entrambi sia la società che io abbiamo lo stesso pensiero E a proposito di quanto stavamo dicendo nel corso dell'intervista a Barbuti situazione compromessa in casa Vicenza Vicenza prossimo avversario nel campionato del Teramo scadeva oggi a metodogiorno il termine per pagare gli stipendi ai tesserati ora i giocatori che avevano messo in mora la società possono svincolarsi e andare via resta l'incertezza su quello che sarà il futuro del club Veneto l'amministratore unico San Filippo si è mostrato fiducioso nel poter ottenere le risorse necessarie per pagare nei prossimi giorni gli stipendi anche se oltre il termine nella speranza di trattenere qualche calciatore il Vicenza non giocherà la gara di Coppa di Padova prevista per sabato e c'è il rischio non solo che non giochi neanche la gara di campionato di Teramo del 20 gennaio ma anche che possa essere escluso dal campionato una eventualità questa che azzererebbe le retrocessioni ed ora scendiamo in serie D intanto con una notizia relativa ad un anticipo di orario quello relativo alla gara della terza giornata di ritorno tra San Nicolò e Francavilla la gara che era inizialmente programmata per il prossimo 21 di gennaio domenica 21 di gennaio ebbene è di oggi la notizia che la partita è stata anticipata a sabato 20 gennaio ore 14 e 30 allo stadio Tiberio Orsini ex castrum di Giulianova e poi ancora c'è tanto rammarico nelle parole del capitano Alessandro Steri per il pareggio dell'Aquila contro il Monticelli di domenica scorsa l'esperto centrocampista fa anche cenno alle problematiche extra campo che continua ad avere la società il servizio di Vestina News sicuramente il bicchiere non mezzo vuoto ma vuoto secondo me perché comunque è un campo difficile è un po' poco praticabile per il gioco che facciamo noi però nonostante di tutto abbiamo creato diverse palle goal alcune delle quali nitide però nel calcio purtroppo vince chi la butta dentro oggi non è stata così quindi portiamo a casa solo un punto sappiamo tutti che comunque in questo campionato il girone di ritorno per tutte le squadre i punti valgono doppio soprattutto per squadre come il Monticelli che comunque darà secondo me soprattutto in casa del filo da torcere a tutte le squadre la fase difensiva siamo spettisti molto bene mentre nella fase difensiva sicuramente dobbiamo essere un po' più cattivi negli ultimi 20 metri questo non è un riferimento solo agli attaccanti ma è un riferimento generato dalla squadra perché chiunque di noi comunque si può trovare in zona goal quindi sicuramente col nuovo anno dobbiamo sicuramente migliorare questo aspetto qua ma il messaggio è sempre lo stesso noi soprattutto col nuovo anno chiediamo solo un po' di di normalità che sicuramente negli ultimi mesi non c'è mai stata poi se dobbiamo combattere fuori dal campo lo faremo come abbiamo sempre fatto però poi quando entriamo sul campo daremo tutto per la maglia come penso che stiamo facendo da tanto tempo bene era questo l'ultimo servizio del TG6 vi ricordo le prossime edizioni del nostro notiziario alle ore 19 la seconda edizione alle ore 23 la terza edizione è tutto grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi grazie per la visione